ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al doxa sub 200 t non è la prima volta che porto un doxa sul canale avevo già recensito sia il doxa sub 200 che il sub 300 e anche sub 300 t la differenza tra i 300 e 300 t è l'impermeabilità allo spessore mentre tra il 200 e il 300 è completamente differente cambia proprio la cassa la cassa del 300 è a cuscino la cassa del 200 è quasi standard diciamo più ovale meno meno accentuata rispetto al 300 ora esce questo doxa sub 200 t e cosa ha di particolare praticamente ha la cassa del sub 300 però da 39 invece che da 42 e 5 ora io lo avrei chiamato doxa sub 300 con la cassa da 39 invece loro l'hanno chiamato sub 200 t lo capisco perché perché i 200 metri di differenza di permeabilità che sono su questo modello non corrispondono ai 300 del precedente insomma prendete prendete quello che viene perché so su sub 200 t confusione è la cassa del sub 300 ma da 39 è così è uscito pochi giorni fa e quando io ho saputo che stava per uscire l'ho saputo prima ero veramente curioso perché potrebbe rappresentare veramente quell'orologio da 39 mm che tutti aspettano le misure adesso si stanno riducendo si sta andando verso la moda già dopo di tempo degli orologi più compatti poi finirà anche questa e quindi la curiosità di vedere un sub 300 da 39 che però si chiama su 200 tip era tanta no è arrivato il negozio io l'ho preso da portare qua me l'ha messo a disposizione il buon giacomo che è il titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale e concessionario del marchio e vi offre anche un bel trattamentino anche a voi che state guardando no ora io dicevo l'ho preso e la particolarità di questi sub 200 t è che escono con una marea una marea veramente tantissimi colori quadranti ma non solo ci sono gli stessi colori ci sono in versione opaca e in versione soleil come avevano fatto i cronografi non so se vi ricordate no soleil io per lì ho detto quelli soleil saranno sicuramente da tenere in secondo piano meglio quelli opachi poi mi è capitato di vedere quello verde soleil ed è veramente carino cioè veramente non stona non è che sembra così fancy così scichettoso sta proprio bene neanche quello soleil quindi la scelta è ampissima perché oltre i colori di quadranti alla finitura di quadranti poi c'è anche l'abbinamento di bracciale o cinturino del colore del quadrante cioè voi fate le moltiplicazioni viene fuori una roba gigantesca che non sto qua a spiegarvi ve l'andate a vedere da soli perché siete bravissimi ad andare a sfruculiare in autonomia dicevo è uscito pochi giorni fa e l'ho subito preso quindi è una sorta di primizia vedremo poi bene nella nella panoramica come come va come non va l'orologio prima di guardarla però vi mostro l'orologio del giorno che anche oggi questo simpatico rolex explorer da 39 mm il mio everyday watch al momento è c'erano c'erano un sacco di everyday watch ma al momento insomma quando scelgo di indossare un orologio poi lo indosso per qualche giorno è alternativamente perché poi indosso anche altri orologi magari vado palestra metto lo speed master però torno a casa rimetto questo capito ora per ora questo qua è quello everyday watch di questi due everyday watch di basta giriamo la camera diamo un'occhiatella a questo bellissimo doxa sub 200 t e poi ci vediamo qua come al solito per le considerazioni finali apriamo le danze cercando di comprendere le proporzioni dell'orologio che sono poi il punto focale di questo nuovo modello diametro cassa 39 mm ingombro trasversale al polso 42 spessore 10.9 mm e interasse ansa da 18 misure che ci riconducono alle stesse proporzioni del sub 300 ossia tutte diminuiscono il rapporto andando a delineare una scala ridotta del fratello maggiore può essere un bene o un male dipende dai gusti e da ciò che si vuole al polso sul mio da 19 cm di circonferenza risulta un po troppo piccolo soprattutto se consideriamo la sua natura acquatica sportiva l'unico ruolo che gli si può concedere in questo caso è quello di avere lo stesso appeal di un orologio vintage compatto e con il bracciale ben visibile dall'alto sia ad ore 12 che ad ore 6 va da sé che chi ha un polso più piccolo troverà in questo orologio la panacea a tutti i mali del mondo perfetto da essere indossato la sua compattezza è dovuta non tanto alla misura da 39 che risulta quasi sempre perfetta per tutti i polsi ma dal fatto che la larghezza è presa alla cassa a cuscino mentre la ghiera ha un diametro di 34.8 mm ed è proprio la media tra ghiera e cassa a farci percepire l'ingombro al polso che visivamente è quindi inferiore ai 39 mm dichiarati un punto sicuramente positivo rappresentato poi dall'esiguo spessore rilevato meno di 11 mm rappresenta un risultato rimarchevole soprattutto se consideriamo i 200 metri di impermeabilità e il fondello a vite ritengo sia un ottimo compromesso 100 metri meno rispetto al sub 300 per scendere di un millimetro di spessore credo che 200 o 300 metri facciano poca differenza soprattutto per l'utilizzo che ne faremo insomma un diver ben proporzionato che vede il suo punto forte nel design generale la voluminosa cassa a cuscino è da sempre uno dei segni distintivi di doxa ed uno dei dettagli maggiormente apprezzati dagli appassionati uno stile che affonda le radici negli anni 70 due archi speculari posti ai lati del quadrante che inglobano tutto ciò che incontrano infatti le ansie appaiono come la naturale conclusione della curvatura e la corona vite risulta affogata e protetta dalla panciuta sporgenza dettagli tecnici perfettamente amalgamati al design ma non è solamente la vista dall'alto a regalarci una piacevole visuale osservandolo lateralmente si nota chiaramente che si tratta di un corpo cassa inclinato che riduce il profilo visibile ad una sottile striscia di acciaio lucidato lucidatura che appare anche sulla faccia della corona e sul bordo della ghiera ad onor del vero non vi è poi quella gran differenza tra dorso cassa satinato e parti lucide diciamo che la sensazione generale è quella di un semi lucido globale che non contribuisce certo ad innalzare il voto della voce finiture finiture che con un colpo di scena trovano il loro punto forte nell'inserto ghiera come si vede si tratta di una doppia scala node eco all'esterno in arancione e minuti di immersione all'interno in nero bene quella esterna lucida è realizzata sul corpo ghiera che funge anche da contenitore mentre quella interna in acciaio satinato è inserita a pressione di incollata al corpo un piacevole contrasto ben percepibile ad occhio nudo e direi anche funzionale alla lettura delle scale stesse per completare le infotecniche occorre dire che è a 120 scatti e ovviamente unidirezionale la manovrabilità è eccellente la si riesce a ruotare utilizzando solamente due dita dalla ghiera stessa parte poi il vetro zaffero completamente piatto e da filo con l'inserto questo è poi uno dei motivi che consentono di avere uno spessore generale ridotto basti pensare a quanto spazio porta via un trasparente bombato e sporgente sul lato specifiche occorre aggiungere che nella parte interna è presente il trattamento antiriflesso quindi vetro piatto e antiriflesso giocano poi un ruolo importante nella leggibilità si vede chiaramente che consentono di poter distinguere senza storture gli elementi presenti sul quadrante certo è palese che accenti bianchi e fondo blu scuro non ha bisogno di trucchetti o di facilitazioni ma è pur sempre vero che è meglio eccedere in positivo piuttosto che rischiare di inficiare anche di poco la leggibilità specie in condizioni di scarsa visibilità come durante una semplice immersione per questi motivi ci troviamo di fronte ad un quadrante che non cerca di stupire con effetti speciali mirabolanti o con soluzioni estetiche ricercate la semplicità finalizzata alla funzionalità questo è leitmotiv del dial ogni elemento siano essi indici o scritte è direttamente stampato sul quadrante l'unico effetto tridimensionale è dato dagli strati di superluminova applicati sugli indici stessi ciò che però da sempre attrae noi appassionati è la forma delle sfere quella dei secondi con il marker quadrato che ci evidenzia il corretto funzionamento del meccanismo quella delle ore contenuta in dimensioni ma bianca e super leggibile e quella dei minuti in arancione fluo così spessa visibile d'altronde è quella deputata ad indicare il tempo di immersione sulla ghiera ed è giusto che sia la protagonista della scena peccato però che in assenza di luce tutto venga invalidato voglio dire la leggibilità del quadrante è ottimale si riesce ad identificare tutto ma è la ghiera ad essere inerte neppure il dot ad ore 12 riesce a darci un segno di vita questo impedisce la lettura dei tempi e della scala nodeco al buio o in penombra avevo già riscontrato questa mancanza di illuminescenza sul sub 200 arancione e mi sento di poter dare la colpa proprio all'arancione in quanto è poi stato riscontrato che il problema non esiste sulle ghiere con i numeri di altro colore ma cambiamo discorso non ho ancora parlato del calibro e qui sarò brevissimo si tratta del solito sellita sv200 base che equipaggia la maggior parte dei modelli della casa un calibro di fornitura onesto e di buona fattura ogni presente sul mercato e di facile manutenzione non è visibile in quanto il fondello è cieco niente di particolarmente elaborato un semplice basso rilievo raffigurante la solita imbarcazione che compare dagli anni 60 anche sul bracciale vi sarebbe poco da dire è il classico chicchi di riso a finitura lucida uno dei più apprezzati design in questo caso occorre sottolineare che l'interasse ansa è di soli 18 mm alquanto ridotto cosa che forse contribuisce a conferire quel sapore retro all'intero orologio da valutare quindi anche la possibilità di utilizzare un cinturino soprattutto perché la forma squadrata dello scasso tra le anse permette di farlo aderire perfettamente alla cassa a livello tecnico occorre sottolineare il fatto che le maglie sono tenute in sede grazie all'utilizzo dei più pregiati perne a vite una bella sorpresa e che la clasp di eccellente fattura presenta una sorta di estensione per indossarlo sugli indumenti può essere tranquillamente utilizzata per la più prosaica regolazione fine non va ad inficiare l'estetica più di tanto possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali bene cosa dire dell'orologio promosso si lo promuoviamo tanto qua promuoviamo tutti gli orologi lo promuovo nel senso che andrà bene per la maggior parte della gente cioè come qualità lo promuovo come come tutto però per me ad esempio non va bene non va bene perché è troppo piccolo 39 io indosso gli orologi a 39 come questo come il legend diver ad esempio il longin no ma è tutto quadrante questo qua c'è una lunetta però standard come orologio questo con la cassa a cuscino così acciaiosa e il quadrante più piccolo ma non fa sembrare posto un po troppo piccolo ragazzi sono gusti miei io preferisco il 42.5 mm il doxa sub 300 quello anche se è un po più spesso di buono questo c'è che è veramente sottile perché sotto gli 11 mm tanta roba e soprattutto volendo trovargli una collocazione sul mio polso no proprio volendo essere sì ma perché perché mi sembra un orologio vintage sul mio polso no piccolino compatto con il bracciale che si vede sopra e sotto insomma ha il suo perché avrebbe il suo perché però se io dovessi scegliere sceglierei il doxa 300t sub 300t che è quello un pochino più da da ometto come me hai capito poi per il resto a parte le finiture che sono un pochino così banali cioè non c'è molta differenza tra il satinato e il lucido no il colpo d'occhio è quello di un semi lucido globale fatto così non è che c'è quella lavorazione che dice guarda come è satinato guarda questa parte ma tutto nella normalità però poi per contro altri punti veramente positivi quali ad esempio il bracciale il bracciale con le con le perne a vita e tanta roba anche bello spesso fatto bene a chicchi di riso lucido lucido o piace non piace la clasco molto positiva fatta benissimo fatta benissimo con la regolazione fine come ci si aspetterebbe quindi tutta la parte bracciale completamente completamente promossa poi li vedono anche con i centurini quindi uno può anche giocare su quello bellina la corona incassata così la protezione che non ha spallette praticamente è la cassa che protegge la corona un po meno positiva diciamo è la luminescenza della ghiera cioè non c'è e mi era già successo sul doxa sub 200 arancione che i numeri arancioni mancano di luminescenza proprio un dato di fatto ormai io lo posso considerare un dato di fatto non è che sia un impedimento l'acquisto perché poi non è che andiamo a fare le immersioni noi no per l'amor del cielo però ti aspetteresti la luminescenza anche sulla ghiera probabilmente su quelli blu con i numerini colorati sulla ghiera c'è la luminescenza perché nel sub 200 c'è poi quadrante bellissimo le sfere accattivanti da paura la leggibilità c'è bellissimo il vetro antigrafio zaffero con antiriflesso interno che si vede benissimo si legge benissimo quindi è un orologio che vale la pena da tenere in considerazione per voi che avete anche un polso un po più contenuto se vi piace veramente l'aspetto di un orologio vintage insomma e sta avendo successo perché ne stanno vendendo è uscito da pochi giorni ma già è un best buy è un best buy bravo bravo ha fatto un bello orologino non per me ma per la maggior parte delle persone lo è poi io ho messo sul piatto tutti gli ingredientini no poi siete voi che dovete decidere se vi piace se non mi piace se avete il budget o se lo volete dedicare ad altro perché con tutti gli orologi che ci sono la scelta è quasi infinita boh mi sembra di aver detto tutto ragazzi non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fino qua aver guardato il video con me spero vi sia piaciuto l'orologio il video il presentatore o perlomeno l'orologio del giorno del presentatore detto questo io vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao